Sempre più episodi di vandalismo a Isernia se ne segnalano numerosi, soprattutto nelle ore serali, quando i controlli si fanno meno frequenti. In particolare vengono presi di mira i due terminal autobus della città, dove nelle ore notturne spesso le strutture diventano rifugio di tossicodipendenti o bande di ragazzi che alzano il gomito. A lanciare l'allarme sugli ultimi episodi, una signora, importunata da ragazzacci, mentre aspettava un autobus nei pressi della stazione, lì dove è stata anche danneggiata, come dimostrano le immagini, una delle pensiline di attesa per i viaggiatori. Ma dove lo spettacolo diventa più deprimente è nel terminal di Le Piane, l'area nella quale vengono parcheggiati di notte i pullman fuori servizio. Le immagini parlano fin troppo bene, lo spettacolo è di abbandono e degrado per quello che doveva essere l'originario terminal bus cittadino e che invece oggi è solo una rimessa a cielo aperto per autobus e pullman delle varie autolinee. Nel fabbricato destinato originariamente a bar e biglietteria c'è di tutto nell'abbandono più assoluto, bottiglie, immondizie e anche siringhe usate dai tossici che trovano un riparo sicuro dove drogarsi. Sarebbe necessaria una sorveglianza più assidua ma soprattutto sarebbe utile il recupero funzionale del terminal bus, magari destinandola ad altre funzioni come per esempio area attrezzata per la protezione civile cittadina. Un servizio che funzionava soprattutto grazie ai volontari e che è cessato con la vecchia amministrazione dopo le denunce e le indagini sull'uso dei fondi. L'inchiesta sembra finita in una bolla di sapone perché le accuse non sarebbero state provate e allora quello di riattivare il servizio di volontariato potrebbe essere un utile suggerimento per chi sarà il nuovo sindaco di Sernia.